Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. In A1 si segnala che stanotte, in orario 22.6, a causa di lavori ripristino incidente, rimarrà chiuso lo svincolo di Valdarno in direzione Roma. Sul raccordo Siana-Firenze si ricorda che a causa di interventi di potatura fino al 2 dicembre in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Colle Valdelsa Sud che è chiuso in entrata in direzione Firenze con possibili disagi alla circolazione. Scambio di carreggiata per lavori anche sulla statale Aurelia all'altezza dello svincolo di Rosignano Marittimo che è chiuso in entrata e in uscita in direzione Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!